Come ogni due anni il coro del Collegio Valdese partecipa al Kirchentag tedesco. I ragazzi e le ragazze del coro sono sempre ospitati dalle comunità evangeliche e quest'anno erano a Perouse, vicino a Stoccarda. Vi facciamo sentire due brani del loro repertorio di quest'anno. God help the outcasts e il giuro di Sibaud in francese insieme alla testimonianza di Elio Canale, ex preside e responsabile del coro. La ragione per cui il Collegio Valdese e la Chiesa Valdese è bene che vadano ai Kirchentag e non solo quello tedesco sta nel fatto che così mantengono la dimensione internazionale e i legami internazionali che hanno fatto la servizia dei Valdesi nel tempo. La seconda ragione è per gratitudine, per dimostrare gratitudine a quel mondo evangelico svizzero tedesco che negli ultimi decenni del Novecento ci ha sostenuto e adesso che non abbiamo più bisogno del loro sostegno speciale per i nostri fondi 8.000, tanto più bisogna dimostrare gratitudine per quel che hanno fatto. Ogni capito Reggianto E poi All'anni capito E poi All'anno capito Il suo meglio morire O Dio di Sinaì Dio di primiere chrétienne Dio di martedì Dio di non perdere Come altre cose Di non perdere O Dio di Sinaì Dio di Sinaì Dio di Sinaì Dio di Sinaì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.